ciao a tutti amici di evriai e bentornati come vedete siamo qui su south park the stick of truth e sempre nella rubrica happy gamer con il vostro felice siamo al settimo episodio la settima puntata di south park e prima di iniziare vorrei farvi una piccola anticipazione una piccola richiesta ho visto che l'ultimo video non è stato particolarmente seguito solitamente abbiamo fatto circa 1500 2000 view sotto in la nostra serie di south park mentre l'ultimo ha raggiunto a malapena le 500 view e non ci sono stati praticamente feedback nei commenti volevo appunto chiedervi di espormi nei commenti se questa serie vi interessa ancora se avete giustamente e cosa lecita magari perso interesse preferite che la accantoniamo e magari inizio un nuovo titolo un nuovo gioco per facciamo due tre episodi poi vediamo come sempre se continuarlo o meno lo dico perché ovviamente questi video li facciamo per intrattenere voi quindi se il vostro interesse in una serie è calato per me non c'è nessun problema a sostituirla con un'altra serie un altro gioco un'altra anteprima di qualcosa che sta per uscire insomma fatemi sapere datemi feedback io li ascolto li leggo vi rispondo e poi valutiamo insieme cosa fare l'ho detto anche nel video di titanfall e lo ripeto anche qua giustamente perché siamo su south park bene detto questo esortatevi a questo favore che vi ho chiesto torniamo a noi se vi ricordate abbiamo recuperato il bastone appunto di stick of truth e andando a letto nella nostra casina siamo stati rapiti dagli alieni e portati in questa astronave dove come vedete vengono fatte cose abbastanza brutte vedete il tipo lì a 90 con quel dildo fallico pronto all'inserimento anale quindi non è proprio un bel posto anche lì la radiografia vedete comunque ci hanno installato un robo che ora non ricordo precisamente come si usa che ci dovrebbe servire per teletrasportarci com'è che funzionavano ah forse ok così no andiamo prima a selezionarlo ok vedete sonda premi lt per attivare la sonda che lt è questo bellissimo proprio è il sogno di tutti ok quindi attiviamo quell'occhio lì e in teoria con rt wow quindi ah possiamo scegliere dove dove metterci diciamo quindi io voglio mettermi qua ah ok ah ti devo salvare ah ok penso da qua magari c'è un interruttore quinto sta roba che cos'è che rumori sono peggio degli spriggan su scarin quando muoiono che vanno tipo elmo alieno pozione della salute questo elmo alieno vediamo un attimo se ha un'utilità allora elmo alieno gli attacchi con le armi infliggono il 10% di danni ah ma siamo siamo in pigiama serio no allora io voglio questo dove era la mia tenuta la mia bella tenuta da link della volta scorsa ecco guardate pronti ok così proviamo a vedere di qua se c'è un modo wow interessante ah non posso andare di lì sembrava qualcosa del tipo no va bene quindi scendiamo di qua ah mi posso mi chiedere ho chiesto su un certo livello per il oh inquietà beh e beh famosissimi allarmi anti incendio nello spazio in teoria se sono alieni non hanno bisogno di ossigeno e se non c'è ossigeno non dovrebbero poter scaturire incendi ma fa niente è south park e quindi mi fa male sta roba ah ok non posso semplicemente ah ok possiamo usare la sonda che roba brutta surprise madafucka da dietro ok mu mu la mucca fa mu mu l'alieno pure lui perché gli alieni fanno mu mu non ho capito vabbè saranno debole al fuoco stico vabbè insomma dei lenzuoli con la teoria della fa l'elettricità beh però così possiamo colpirli tutti proviamo tentativo tentare non nuoce bagnati bagnati alieni bagnati ok caspita se sono deboli al tuo all'elettricità sto allo scudo dell'iphone anche questo della della apple ok qualcosa mi dice che uno scudo riflettente non è cosa buona mh rifletterà le magie chi se lo ricorda proviamo nel dubbio mu 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 chissà che i grandi discorsi fanno questi alieni con kenny ve l'immaginate kenny mu 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 ну um uh um quello lì penso che stia morendo credo No Beh vabbè colpiamolo lo stesso Oh calma Tra tranzolli Sì vabbè se la smettete di curare mi fate un piacere comunque Mana potenza Ok Yep Dai La musica è sta Stratipo compata No ho filato No no Oh mio dio Oh mio dio guardate la mia vita Cioè oddio non la vedete perché c'è la mia faccia Ma ho 7 di vita ragazzi Pozione della salute Grande assolutamente Oh mio dio Non possiamo usare nulla Ok Fate fate troppo danno ragazzi Uccidiamo questo Dai Il che danno saperlo prima Ok non dovrebbe uccidermi in teoria Oh mio dio Oh mio dio Dai Dai Perfetto È stato tosto a questo incontro È stato È stato tosto sì Pistola laser aliena Con tanti Con tanti spaziali Perché attenzione Non Stacco della rinanimazione Lo accetto volentieri Ehm Fatemi vedere Sto 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 Allora Questo fa 20 20 per 3 70 Beh 20 per 3 3 2 4 6 L'elettricità Però Ha il danno Da elettricità Quindi Insomma Con il danno All'elettricità Dato che Questi Stem Oddio Beh ovviamente Il mio sedere Si interfaccia Con Perché non dovrebbe La vera domanda Quale sedere Noi Allora Vediamo Che sta tutta Stiamo trovando Un sacco di equipaggi A cura 20 per Uniscono Quando usi un arco Cosa che noi Non stiamo facendo Proprio atto Di armatura Uno scudo Para Due colpi All'inizio Del combattimento Beh Beh E cappelmo Alieno E tacchi con le armi Infliggono Vabbè Questo lo teniamo Però la tuta La tuta Aliena Non ha senso Il nostro equipaggiamento Fate finta di niente Qua? Ah ok Dobbiamo usare la sonda Perfetto Perfetto Qua Ah lì spostiamo Una piattaforma Ah così No Ok Ah ok Ho capito Ho capito Ho capito Forse Forse possiamo Usare questo Per Esattamente Andare Perché Quell'alieno È vestito Da poliziotto Non voglio saperlo Non ci arriviamo lì Però Però forse Se facciamo Ah qua possiamo Andare Ok Qua Uh GGVP Ah Ok però Non possiamo Non possiamo Non possiamo Andare lì Quindi Ok Però Ho in mente Di fare Così Entra 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 Ok Così E poi andare Esatto Da dietro Da dietro Pam Il femore Moumou Moumou Ok Andiamo subito Cattivi Ah Bagnati Ok Sembra Slenderman Non farmi male Oh mi ha parato Utile Quel Ok Si inizia a proteggersi Dagli scudi Poi Proviamo la pistola Laser Proviamo Questo Se riusciamo A uccidere Questo Wow Schivata Perfetta Cominciano A curarsi Dai Scappato Wow Ci farà Da dio Quel coso lì Ho proprio Sugli Stinky I danni Dovrei usarla di più Sta stampella Fa un sacco di danni Fa più Fa più tanto Tanto Vabbè Abbiamo un sacco Di tempo Presumo Questa non è una porta Ok Pozione Con tanti Un fumatore Boh roba a caso Questo cos'è Una cosa che Ah Potevo farli cadere Non l'ho notato Comunque Entriamo qua Qua Non capisco Ah Attivato Attivato Qualcosa Vabbè Presumo Comunque Che dovremmo No Dovremmo scendere Scendere qua Credo Proviamo No Ok No Ah Qua era Che c'è Ah beh Parla Parla L'uomo adulto Messo a 90 Con un coso Nello sfintere Wow E ci vuole la scienza What Proviamo Proviamo L'altra Qua posso Far Ah ok Più facile Di quanto Pensavo Cristallo Di energia Sicuramente Servirà Qualcosa Vorrei andare Vorrei andare Lassupra Però Ah C'è la scala Giusto Ok Che ci guarda Sì ma non mi interessa Della tua Della tua vita rinchiuso Va bene va bene Tranquillo Devi stare Tranquillo Andiamo di qua Quanti punti esclamativi Come posso fare qua La petomanzia Qualcosa Magari No Con l'urlo Non penso Neanche Allora Devo trovare Qualcos'altro Come posso Entrare qua Ragazzi Vediamo un po' Ah la sonda Ah forse posso rompere Posso rompere questo Ok E adesso Proviamo così No Ok Quindi Ora Ora che abbiamo fatto Tutto ciò Idee Non ho idee Ragazzi Allora Cose da distruggere Non ce n'è Altri modi per arrivare Lì Non ne vedo io Proviamo a controllare Un po' in basso Non lo so Proviamo Non No Di qua Non mi pare Ci sia Non mi pare Ci sia Nulla Di pertinente A quello che Dobbiamo fare Scusate Un po' Il momento morto Ma non Riesco bene A capire Ok Con questa Di qua Cosa posso fare Ok Forse Oh si Di qua Ok Abbiamo trovato Ok Però qua Non mi fa Andà Non riusciamo Magari A fare I furbetti No Niente Furbetti Ok Ok Aia Mi scusi Non volevo Perché non puoi passare Ti erai inbellinato Un attimo Scusate Oh uno Mumu Salve Dice che la Shottiamo con questo Mumu Tranquillo Abbiamo failato Vabbè C'è che si sono toccati I fili ma Vai Schivata perfetta Prova a schivare Questo L'hai fatto davvero Non ti vergogni Vabbè Sei ancora In schivata perfetta Quanto dura Sta schivata perfetta Signore Ancora Vabbè Senta signore Sono stanco Quindi Andiamo di classico Mumu Mumu Basta È stato velocissimo Questo Aia Ah ok Perfetto C'era qualcosa Da prendere Di qua Cose strane Di qui Oh State parlando in troppi State parlando in troppi Però la cosa carina Era il tizio Che stava facendo Una brutta fine Let me pass Grazie Ok allora passiamo di qui Raccogliamo qua Le nostre cosine Vai Che maestro Oh Why Em Si Questa trollata Il gioco mi trolla Si Mi dispiace Lol Che è la trollata del secolo Ok Devo andare giù Ok di qua No non era Non era Ce la puoi fare Non era Come scendiamo Forse di qua C'è un modo No Ok di qua Non c'è un modo Torna su Questa è rotto Ah qua c'è la piattaforma Non me la ricordavo più ragazzi Era talmente imboscata che Ok Si si tranquillo che l'elettricità Ma è mia amica Oddio c'è il super muli Allora Andiamo a shottarli subito tutti Dai Cerchiamo di farcela Yeah Schivata perfetta Qua si mettono già Scudo riflettente Oh Tranquillo Usiamo subito Rigeneriamoci subito La Dei punti Punti abilità Usiamo di nuovo Questa Faccio che è straforte C'è tipo il boss Ottimo Perfetto Un po' di vita Please Casi Una medicina spazzata Siamo con questo Vai Mumu 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 Aia 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 Attenzione Attenzione I danni Ok Vai Potere della stampella Gran potere Mumu Mumu Troppo danno Amico Fai troppo danno Cioè Contieniti Anche quelle piccole Devo dire Curano abbastanza bene Mumu Caspita Oddio Sto sanguinando Sono Commesso male Di nuovo Anche se non morirà Dai Resisti L'ultimo turno Amico Mumu Mumu Per sicurezza Dato che nella vita Non si sa mai Ci curiamo ancora Perché Non vorrei mai Che Succeda qualche Disgrazie Vai Ultima Rastrellata Mumu Perfetto Ok Cosa mi dai Con tanti Pozione Con tanti Pozione Ok Riuscite a liberarlo Finalmente Ok Proviamo Torniamo indietro Vai Perché canta? Ehi Non mi spaventare Di qua C'è un turno qua C'è un turno qua Sì sì va bene Interessante Ma la prossima volta Perché sei ancora lì? Ah ok Sei intrappolato Ma non potevi alzarti Ah ok Hai intrappolato con le mani Insomma Ah il pannello è qua Ah Non l'avevo visto Non date a orecchio Ok Ok l'allarme Scusa Scusa Non volevo Riproviamo Ok Ok Ah Sì Saldiamo sto tizio E poi interminiamo Ma anche no Quello che ti hanno fatto Ah mollami tranquillamente qua Cosa abbiamo trovato? Cristallo della potenza bianco Non voglio sapere perché tra tutti i colori è proprio bianco Ok ragazzi Direi prima che succedano altri inaspettati eventi Come succede sempre in questo gioco Ci stoppiamo qua Ci stoppiamo qua Salviamo la nostra amata partita E direi che per questo settimo episodio di South Park ci fermiamo Come vi ho chiesto all'inizio mi raccomando fatemi sapere nei commenti se questa serie vi interessa ancora In tanti o se vi ha stufato Mi ripeto non c'è nulla di male se vi ha stancato Semplicemente cerchiamo qualcosa di nuovo Ecco voglio dire non è per forza colpa mia se va stancato Magari anche l'incedere del gioco Le cose magari già viste Magari anche io che Magari potevo fare delle cose più So più variegate Più divertenti Non lo so Comunque fatemelo sapere Se andare avanti con questa serie o stopparla E Se avete anche qualcosa da consigliarmi Nel senso se volete qualche video di qualche gioco in particolare Voi chiedete Non è detto che poi Io possa darvi ciò che mi chiedete Ma Chiedere è lecito Ok direi che è tutto per questa puntata Forse l'ultima forse no Non si sa dipende da voi Iscrivetevi al canale di Evriai se non l'avete ancora fatto E continuate a seguire la rubrica Happy Gamer con Felice Ciao ciao